Continuano gli appuntamenti elettorali a cura del capoluogo.it Abbiamo già presentato i candidati alle prossime elezioni regionali Partiamo adesso con invece l'illustrazione dei programmi dei candidati al prossimo Consiglio regionale Ospite nei nostri studi il candidato Alessandro Piccinini Candidato appunto con il centrodestra in quota Fratelli d'Italia a sostegno di Marco Marsilio Benvenuto Ben ritrovati Allora partiamo subito dall'evento che si terrà lunedì 12 febbraio su sport e inclusività Una tematica sicuramente d'attualità e sicuramente centrale anche nell'ambito di questa campagna elettorale Sì un evento importante a cui teniamo molto Ci consente di trattare tre temi che ci sono molto a cuore Quello dello sport e richiamo qui anche la mia precedente esperienza come assessore allo sport Al comune dell'Aquila e anche proprio la mia vita improntata sull'importanza dello sport e l'attività sportiva Quello dell'inclusività e della partecipazione e dell'accesso a tutti per quanto riguarda le strutture in questo caso Per quanto riguarda le strutture sportive è quello della città-territorio che è un tema che nella zona ovest abbiamo sviluppato E dell'importanza anche dell'inclusività e di far sentire parte di un territorio più vasto anche i comuni e le aree più piccole Interverranno per l'occasione oltre al presidente Marsiglio ovviamente il senatore Liris e il sindaco dell'Aquila Biondi Ci saranno ospiti importanti che hanno avuto esperienze particolari anche con l'inclusività appunto Come Stefano Cialella che è un noto mezzo fondista che ha noto per aver accompagnato alla vittoria Annalisa Minetti la cantante nelle Olimpiadi Paraolimpiche Ci sarà poi la testimonianza di Paolo Vaccari che è un ex nazionale di rugby molto amato anche dagli Aquilani Che hanno la passione per il rugby che si occupa oggi di impiantistica sportiva all'interno della federazione di rugby Un fisiatra importante, Angelo Cacchio E questi saranno i nostri ospiti e parleremo di questi temi Poi ovviamente avremo anche un momento di conviviale da condividere con chi parteciperà Con un po' di buon cibo e di musica Sport, benessere e allora parliamo anche di sanità Sanità sicuramente è uno dei macro temi di questa campagna elettorale L'Abruzzo esce da un'emergenza pandemica Si parla di liste d'attesa, si parla anche di grandi progetti, quelli dei nuovi ospedali Ecco, da cosa bisogna ripartire? Bisogna sicuramente ripartire dalla nuova rete ospedaliera Che è stata presentata pochi giorni fa E che sicuramente è una riforma importante che si attendeva Darà possibilità di investire per circa 390 milioni di euro Garantirà all'incirca 400 posti letto in più 400 posti letto in più e 4.000 assunzioni Per cui questo è già un grandissimo passo avanti Questo non deve comunque indurci a pensare che i problemi della sanità saranno risolti Perché in realtà il problema principale è quello proprio della carenza di medici e di operatori sanitari Che vanno assolutamente integrati gli organici, vanno fatti concorsi Rapidamente si dovrà procedere in questa direzione Rimettere nelle condizioni i medici di poter lavorare nel miglior modo possibile Rendere fruibile il diritto sanitario che è un diritto per tutti Anche per le fasce economicamente più deboli Trasporti, cambiamo quindi decisamente argomento Qual è la strategia per il rilancio soprattutto dei territori in un certo senso difficili, le aree interne? Anche questo è un tema decisamente importante per il nostro territorio Abbiamo più volte avuto occasione durante la campagna elettorale Di parlare dell'importanza di avvicinare il bacino di Roma e del Lazio alla città dell'Aquila Per poter garantire numeri più sostanziali al turismo, all'economia, all'industria Questo deve essere fatto attraverso un impegno da parte di tutta la politica Ripartendo dallo studio di fattibilità che esiste per il collegamento su rete ferroviaria di L'Aquila con Roma Passando per la Marsica È chiaro che l'impegno deve essere quello anche di garantire una sostenibilità di quest'opera Quindi ci dovrà essere un impegno massiccio per trovare le risorse e per portare avanti un progetto come questo Ma anche garantire un collegamento più veloce anche interprovinciale In modo tale che ci possa essere più scambio anche tra le città della provincia stessa Questo deve fare il paio poi anche con un'altra riforma che dovrà essere messa in campo Che è quella della connettività delle aree interne Quindi c'è dotare di collegamenti veloci su fibra le zone interne In modo tale che si possa evitare anche che i giovani lasciano la nostra terra E parliamo invece adesso di turismo Abruzzo Regione Verde, Abruzzo Regione di Parchi, di aree protette e Regione di Borghi Quei borghi che sono stati in un certo senso rilanciati e riscoperti nel periodo del Covid E quindi del distanziamento sociale Ecco dal punto di vista dello sviluppo turistico del territorio abruzzese in generale Da cosa bisogna partire, ripartire e qual è la strada che bisogna perseguire in questi prossimi anni? Ma ci sono alcuni spunti che devono indurci a pensare che si può lavorare in una certa direzione Io lo ricordavo qualche tempo fa sul sito camminiditalia.it Il recentissimo cammino del Gran Sasso è uno dei più cliccati d'Italia Uno dei più ricercati e uno di quelli che ha avuto maggior numero di presenze sul territorio Questo deve indurci a lavorare in questa direzione sul turismo lento, sul turismo verde E quindi sui cammini fatti con i cavalli, con le bike o semplicemente a piedi La normativa, esiste uno scheletro di normativa regionale del 2017 Deve essere ampliata e migliorata Devono essere garantiti fondi importanti e introdotte misure di sgradi fiscali Per chi vuole intraprendere attività turistica Avere la possibilità anche magari di ripristinare, di rigenerare ruderi e casolari In modo tale che possano diventare ostelli e recettività Per quanto riguarda questi percorsi Perché le persone sono sempre più indotte a riscoprire anche un turismo Che sia fatto di natura e di camminate Ringraziamo Alessandro Piccinini Grazie a voi Grazie per averci seguito Continuate a seguire gli appuntamenti del capologo.it Che vi accompagneranno alla data del voto il prossimo 10 marzo 2024